Nel momento del suo congresso, con modalità diverse dal PD, ma accade anche a Livorno, Francesco Renda, segretario uscente e confermato, presenta la piattaforma del partito di qui ai prossimi tempi. Per cosa si caratterizza? La rifondazione comunista vuole impegnarsi affinché esista e resista e venga percepita dai livornesi la possibilità che un'alternativa di sinistra per la città e per la provincia esiste. Purtroppo abbiamo la consapevolezza che la frammentazione della sinistra non consente l'articolazione adeguata alle sfide che la città attende. Allora vi allerete con qualcuno? Sicuramente con tutte quelle forze, con tutti quei soggetti che saranno alternativi al PD. Anche il nuovo Movimento Democratici Progressisti? Se diranno no al PD e sì ad un progetto di sinistra alternativa, perché no? E poi ci sono associazioni e comitati con cui siete in contatto, a Livorno in particolare? Assolutamente, riteniamo che la base sociale associativa sia fondamentale per qualsiasi partito politico, perché consente le idee e le articolazioni per comprendere la realtà e di conseguenza mettere in campo azioni concrete. Una volta a Livorno la rifondazione comunista fece notizia perché è presa, se non ricordo male, intorno al 13%. Sono lontani quei tempi, vorranno ripetersi? Sicuramente, come ho detto anche prima, il passato è importante perché ci dice chi siamo, ci dice da dove veniamo. L'importante è resistere, non è rifondazione comunista ad essere cambiata. Se è cambiata forse è cambiata in meglio. I compagni e le compagnie sanno le autocritiche che spesso ci facciamo, ma è inutile piangere sul latte versato o rimettere dentro il dentifricio il tubetto, perché è impossibile. Voltiamo pagina, ci siamo e ci saremo.